La scorsa settimana un incontro in Regione sulla depurazione. Buone notizie per quanto riguarda i depuratori, un po' meno per quello che riguarda i problemi degli scarichi e degli impianti fognari. Ma io non lo so se si è trattato veramente di buone notizie, perché io sono convinto che in questa materia si paga lo scottoti appartenendo alla Regione Campania. Sì, perché è impensabile che un depuratore, l'unico che sta in costruzione, che dovrebbe servire i comuni di Ischia e Barano, è in costruzione da tanti anni e non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Per gli altri due, io sono terrorizzato, perché se i tempi sono quelli biblici del depuratore di Ischia, figuriamoci due depuratori dei quali è stata individuata appena la zona dove dovrebbero essere costruiti, quindi figuriamoci. Comunque, voglio dire, questo è quello che abbiamo, oltre più che insistere e sollecitare le autorità competenti che sono appunto l'assessorato regionale dell'ambiente in primis, voglio dire, più non possiamo fare. Per quanto riguarda gli scarichi c'è questa grossa problematica che interessa tutta l'isola. Io mi permetto di dire che probabilmente Barano è il comune meno interessato da questa questione, perché forse non tutti sanno che Barano è l'unico comune che non ha in attivazione una condotta sottomarina. Per essere precisi, è giusto per non fare la fine del comune povero, noi abbiamo forse la migliore condotta sottomarina, che però non abbiamo mai attivato, perché non ce la siamo sentita, non ci siamo sentiti di attivare una condotta sottomarina senza un adeguato trattamento a monte. Il problema, oltre a quello delle acque reflue, è anche quello delle acque termali da smaltire e in regione sembra che abbiate trovato un compromesso sullo smaltimento o sul suolo o in falda direttamente. Quello sicuramente è un grosso problema e probabilmente la soluzione migliore è proprio questa, cioè far sì che l'acqua attinta dal pozzo dopo l'uso sia adeguatamente trattata, benché i vincoli sono stati ristretti e quindi probabilmente là va fatto un discorso con gli organi competenti, debbano essere poi reimmesse in altro pozzo nella stessa falda. Questo consentirebbe anche il ripristino quantitativo della falda d'origine, cosa che non guasta.